Sì, destra sei lunga 40, sinistra 2 si restringe, poi sinistra sei lunga così una soffita. E' crinale poi destra 5 lunga, E' sinistra sei 230 crinale, attenzione frena 60 tornante sinistro, sinistra sei su crinale, destra sei 80 tornante destro. E' attenzione sinistra 5 su crinale, poi subito destra 3. 100 su lungo crinale, sinistra 4 lunga, poi sinistra sei, e destra 4 media, in attenzione destra 3 lunga su crinale. 100 sull'frigioramento Sì Mauro Sì Ho Ho Sì 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 In destra uno lunga e attenzione sinistra quattro. Intornante destro lungo e crinale alle 40 sinistra 6 destra 1 lungo. Intornante destro lungo e crinale alle 40 sinistra 6 destra 1 lungo. Intornante destro lungo e crinale alle 40 sinistra 6 destra 1 lungo.